Benvenuti in NB. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso con una qualità artigianale unica e un design distintivo, il marchio NB potrebbe essere la scelta giusta per te. Fondato nel 2004 da Luciano Nincheri e Alessandro Bettarini, NB si concentra sull'innovazione tecnica e sulla produzione di orologi di alta gamma, tutti assemblati a mano nell'atelier dell'azienda Acchianti, Italia. Uno dei modelli più iconici di NB è il militare, ispirato ai modelli degli anni 30 e 40 utilizzati dall'esercito italiano. Il militare è dotato di un quadrante leggibile e di una cassa in acciaio inossidabile spessa e resistente, ideale per l'utilizzo in situazioni estreme. NB produce anche altri modelli di orologi da polso, come il fondale, un orologio subacqueo con una resistenza all'acqua fino a 3000 metri. La filosofia di NB è quella di creare orologi di alta qualità utilizzando solo materiali pregiati come il titanio, il bronzo e il carbonio, combinati con movimenti svizzeri di alta gamma. La produzione di NB è molto limitata, il che significa che ogni orologio è esclusivo e raro. NB è diventato un marchio molto apprezzato tra gli appassionati di orologi di lusso e collezionisti, grazie alla loro qualità artigianale e alla loro attenzione ai dettagli. Grazie alla loro filosofia di produzione artigianale e all'attenzione ai dettagli, gli orologi NB sono veri capolavori che possono essere apprezzati per generazioni.